Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Clash Royale Allora ragazzi, oggi siamo con un nuovo deck Un deck tutto femminile, visto che me l'avete considerato tantissimi nei commenti E ho già visto questo deck essere usato da altri youtuber Quindi se uso questo deck mi dispiace se qualcun altro l'aveva già fatto Ma effettivamente, me l'avete chiesto voi nei commenti Quindi ho deciso comunque di farlo effettivamente Perché me l'avete considerato voi Allora, ovviamente ci sono stato 5-6 carte In realtà, diciamo, femminili Che sono questi 4 che ho già, quindi strega, moschettiere, valkyria e arcieri Poi rimane solamente la principessa e i 3 moschettiere Che in realtà comunque sono sempre moschettiere Quindi in realtà per quello dico 5-6 carte Io ne ho soltanto 4 Quindi gli ultimi 4 slot delle carte ovviamente ci ho messo qualcosa di utile Tipo le frecce, la sfera infocata, la scarica e la veleno Quindi spero effettivamente vada comunque bene come deck Come vedete sto cercando di non utilizzare comunque delle carte che spawnano roba O cose del genere Perché effettivamente bisogna combattere in un certo modo Utilizzando soltanto carte femminili Quindi cerchiamo di andare a fare una prima partita Cerchiamo di fare soltanto una sola partita in questa puntata E vedremo di fare del nostro meglio per riuscire a vincere in qualche modo Perché effettivamente è quello il nostro obiettivo della giornata Non so se ce la faremo Può essere ma boh scopriamolo insieme Vediamo un po' Locus 18 cm Non so cosa indica quei 18 cm Ma non voglio nemmeno saperlo Quasi quasi Butto una veleno O per iniziare nel caso in cui butti della roba a lui lì Ovviamente per non so far cose E ha buttato una strega Va bene la strega non è un problema Perché effettivamente la ce l'abbiamo anche noi Quindi strega contro strega Solo che noi poi abbiamo anche la valchia se vogliamo La valchia la buttiamo addosso ragazzi Quasi quasi Faccio vedere faccio vedere adesso Ah no Diciamo che la buttiamo qua la valchia Più questo Ok E siamo riusciti in qualche modo a combattere strega contro strega Però lui ce l'ha a livello più alto la strega Quindi in qualche modo dovremmo riuscire a combattere meglio Vediamo se faccio così Ok Dobbiamo comunque passare in qualche modo Quindi ce l'abbiamo comunque fatta La valchia stranamente è una carta che fa abbastanza cagato Vuoi essere sincero Però Ehi non è male Non è così tanto male Vedete le frecce E arrivate Arrivate in fretta Arrivate in fretta Perfetto Brave Ok Valkyria Mi sta Non mi sta deludendo Vediamo un attimo di buttarla qua al centro Eh potrebbe essere un po' pericoloso Perché c'è pure il mago Però in teoria dovrebbe fare un casino di male E più di così ragazzi Non posso fare niente Quindi Mi farà parecchio male E forse mi shotta anche sinceramente E infatti mi shotta Quanto leva quel mago Porca vacca No non buttarmi Ah Mi ha buttato la cosa Mi ha buttato Ok devo Per forza fare molta attenzione Alle carte che butto ovviamente Perché sono particolarmente utili Per certe cose Allora Come potremmo Effettivamente Dare Un po' di male A quella torre a sinistra E questo che dobbiamo Questo dobbiamo puntare ragazzi Lui è una strega Ricordiamoci questo Quindi ci conviene a questo punto Fare comunque dei danni lì E passare in qualche modo La strega a sinistra Non è un grande problema Quindi va bene Per il momento A questo punto Butterei uno di questo E che ti pareva Che ovviamente Non buttavano Delle carte della madonna Qua E magari facciamo così Così almeno facciamo Un po' di danni normalmente Vediamo un po' Se passiamo Ok Eh Sì In qualche modo Stiamo passando Eh però Ovviamente mi capitano Le super carte della madonna Che fanno un casino di male E ovviamente Io non posso farci nulla Beh Mi sa che pure è messo Quei cosi No ce l'ho fatta Ce l'ho fatta E niente Novecento ancora Novecento Novecento Strega E zap Ah no 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 Che zap Che zap Veleno Veleno come difesa Ragazzi ricordate Veleno come difesa È ottima Bam Ok ragazzi Questo mio Non riuscirai a fare Troppi danni Diamo un po' Se buttiamo qualcosa lì La vedo molto difficile Che riusciamo in qualche modo A sbaragliare la concorrenza Sinistra Cioè Qualcosa non è male E' effettivamente Però Ce la facciamo Ce la facciamo Ok Bam Ah no però c'è lo grinder Diamo un attimo Se facciamo così No Merda Me l'ho buttata alla fine Me l'ho buttata Nah Un bel problema Un bel problema Però effettivamente Potevamo giocarcela Diversamente No perché Effettivamente L'unico posto Che potevamo fare E' quello Siamo scesi di nuovo In arena 4 Invece no Ah giusto Bisogna scendere sotto Mille e quattro Presumos infatti E niente ragazzi Siamo qui Non abbiamo vinto Effettivamente con il nostro Deck Però il deck Non è niente male Peccato che non abbia Dei tank O comunque Non abbia delle carte Interessanti Che facciano davvero Tanto male E sicuramente Non ho modo Di fermare Nessun modo Lo grinder O i prince Con queste carte Quindi Ehi come faccio Quindi Bella domanda Comunque ragazzi Noi ci vediamo presto Con un nuovo video Qui dei deck strani Da lì c'è tutto Ciao ciao E alla prossima puntata Mi raccomando Iscrivetevi qui sotto Altri deck da portare Sul canale E ovviamente Lasciate un bel like Se volete Altri deck Ciao ragazzi